ciao ragazzi sono quale se lunga per la promozione della stella ortoa spendi 7 euro di stella ortoa e ne rimborsi uno sette quindi se questa è una offerta andesse lunga come potete rivedere 089 se c'hai la la carta delle se lunga e qua c'è la sua promozione di fianco e qua ci sono le nostre belle birre che io ho comprato eccole qua 8 bottiglie 7 euro e 10 e rimborsi sono 7 euro quindi 8 birre pagate 10 centesimi